Si appresta a compiere un deciso balzo in avanti la gamma delle prestazioni sanitarie erogate in provincia di Agrigento grazie all'attivazione di un nuovo e specifico servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che secondo quanto recentemente annunciato dal commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia vedrà la luce a breve colmando di fatto un vuoto specialistico di cure settoriali sul territorio. Si tratta di una unità dipartimentale inter-ospedaliera che pur avendo la sua centralità operativa presso l'ospedale Bruno Lombardo di Canicattì metterà in connessione il nosocomio canicattinese con gli altri presidi della provincia e special modo con il San Giacomo d'Alto Passo dedicata per il trattamento chirurgico delle complicanze gastrointestinali. L'idea di uno specifico ed altamente specializzato ambito di cura delle principali patologie dell'apparato digerente capace di mettere in rete i servizi dei cinque ospedali agrigentini nasce da un'idea progetto condivisa fra il commissario Zappia, il direttore sanitario aziendale Emanuele Cassarà il direttore del dipartimento di medicina ASP oltre che dell'ospedale di Canicattì Giuseppe Ogello e il professor Vito Di Marco in rappresentanza della scuola di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Università di Palermo della rete epatologica siciliana Sintesi e della società italiana di gastroenterologia. Presso l'unità saranno impegnati quattro dirigenti medici specialisti che da subito potranno avvalersi di una moderna strumentazione per la diagnostica e la terapia endoscopica in sinergia sia con l'unità di medicina interna che con quella di radiologia del Bernone Lombardo. Negli ambulatori potranno essere seguiti pazienti con malattie infiammatore dell'intestino come la colite ulcerosa e la malattia di Crohn che hanno necessità di cure continue e specifiche come la terapia biologica che sarà somministrata direttamente in regime di day service. Previsti anche ambulatori per la diagnosi e la terapia delle epatopatie croniche virali, autoimmuni e metaboliche inseriti nella rete epatologica siciliana recentemente istituita con decreto dall'assessorato della salute della regione Sicilia. La gestione delle malattie epatiche più gravi come la cirrose e i tumori del fegato avverrà in collaborazione con un board multidisciplinare coordinato dall'unità complessa di gastroenterologia del Policlinico di Palermo e del quale fa parte anche l'ISMET del capologo siciliano Centro d'Eccellenza per la chirurgia dei tumori del fegato e il trapianto d'organo. Grazie.